Musica Cirielli, Salerno non è più un'isola felice, Bellizzi, città giovane, parla il sindaco Pino Salvioli, adolescenza tra scuola e servizi, il progetto dell'ASL di Salerno. Bentrovati dal Tg di informazione salernitana.it, il governo deve sapere che Salerno non è più un'isola felice, il presidente della provincia Edmondo Cirielli nel corso del consueto appuntamento ai nostri microfoni parla della sicurezza Salerno-Città dopo l'omicidio di Sergio Rossi, CSTP e mozione di incompatibilità, gli altri argomenti dell'intervista. Continua a far discutere la mozione di incompatibilità presentata dal consigliere Salvatore Memoli, secondo sì da parte del consiglio provinciale. Presidente, qual è la sua posizione? Il punto è che qua si discute molto. Il PD pensa che con intimidazioni giornalistiche, con attacchi personali, minacce politiche varie, riesca con prepotenza a ottenere quello che per quanto mi riguarda è un fatto individuale, e mio e personale, se io mi voglia dimettere o meno. Io credo che ho il dovere di rispettare invece la volontà del Consiglio. Il Consiglio provinciale, legittimamente, utilizzando il testo unico delle leggi sugli enti locali, che peraltro ha fatto proprio un uomo della sinistra, Bassanini, che prevede che il Consiglio ha la competenza per emanare, per una azione di incompatibilità. In quel caso è il Consiglio che ha la sovranità per farlo, nel caso uno voglia tutelarsi, ha tutto il modo per farlo, ricorrendo in tribunale. La legalità di quel comportamento, la liceità di quel comportamento, che peraltro non è mio, ma è del Consiglio provinciale, viene verificata dalla magistratura e il PD, anziché fare tutte queste proteste, può semplicemente presentare un ricorso al tribunale. La verità è che è il sindaco di Salerno che manovra queste polemiche, queste persone per fare del servilismo politico nei confronti del sindaco, che non ha mai digerito che ci fosse un ente che gli chiedesse di rispettare i suoi obblighi, e di non sfruttare gli enti sovracomunali come l'ASI, come il CSTP, come i consorzi di rifiuti, per scaricare i propri debiti e utilizzare il denaro accumulato dal non pagare i servizi in questi enti sovracomunali per azioni, secondo me, sbagliate sul territorio che alla fine non hanno portato del bene neanche a Salerno. Questa situazione è intollerabile, io l'ho fermata e per questo il sindaco mi contrasta, ma è un problema suo, non è un mio. Tornando all'incompatibilità, la legge di Tremonti che crea questa nuova incompatibilità anticipata alle elezioni, crea un problema reale. Si è parlato che si vogliono conservare le poltrone, ovviamente io la poltrona la sto lasciando, altri presidenti della provincia, altri sindaci non le stanno lasciando, e non le stanno lasciando perché hanno già avuto garanzia che alla fine il governo voluto dal PD farà in modo che si voti un giorno prima e che quindi queste elezioni saranno anticipate e loro utilizzeranno il ruolo di presidente delle province e di sindaci fino alla fine per fare campagna elettorale. Questo il Consiglio provinciale, grazie a me, l'ha ritenuto non fosse giusto. Io lo condivido sul piano politico e voglio anche già dire che ovviamente, pur avendo dubbi sul piano giuridico perché non è una norma scritta bene, ma oramai in questo Parlamento inutile si scrivono tante sciocchezze, ovviamente condivido la ragione etica politica che è giusto che uno che si trova in carico da presidente non si possa candidare e se si candida non può rimanere presidente. Così come trovo giusto che il Consiglio provinciale, che è stato eletto, non è che il Consiglio provinciale si trova qua per caso, non sono stato eletto solo io, sono stati eletti anche i consiglieri provinciali e l'ultima volta che si elegge un Consiglio provinciale, il prossimo non verrà eletto, non è che se io mi dimetto si torna alle elezioni, non si vota più, la nostra provincia è finita politicamente e io credo che sia giusto. Nel 2014 finisce il mandato di questo Consiglio provinciale ed è giusto che vada così. Se i consiglieri provinciali di opposizione ritengono che questo sia illecito, devono fare causa ma contemporaneamente si devono dimettere perché non devono rimanere in un Consiglio provinciale illecito perché se ci rimangono vuol dire che ci rimangono solo per il gettone di presenze. Allora questo poi lo dovranno giustificare i loro elettori. Il Consigliere provinciale di Fli, Antonio Cammarota, parla di farsa e di azione immorale. Penso che queste parole dovrebbero dimostrare anche che la farsa è rappresentata proprio dal partito di Fli, un partito che ha un leader nazionale che fa il Presidente della Camera grazie ai voti di Berlusconi che ha detto che si sarebbe dimesso se Berlusconi si dimetteva e non lo ha fatto, ha detto che si sarebbe dimesso se si dimostrava che il cognato si era impossessato dalla casa di Edio e di Anne a Monte Carlo e non lo ha fatto, e di un leader provinciale, se così si può dire, che è stato eletto nel PDL grazie ai voti del PDL, aggiungo anche grazie a un grande sostegno personale di Edmondo Cirielli al Comune e alla Provincia, come possono testimonare tutti, e poi ha cambiato casacca facendo il ribaltonista. Credo che di moralità politica lui non possa parlare perché non è stato un buon esempio di moralità politica. Da capogruppo ha cercato di approfittare di questo suo ruolo qui in provincia e proprio per questo è stato emarginato dal partito e costretto di fatto ad andare via proprio perché addirittura è arrivato a ricattarmi politicamente per diventare assessore e minacciando di andarsene dal partito in caso contrario. Quindi credo che non possa dare lezioni di tutto quello che ha fatto, ci sono ampie prove, dimostrazioni, un ruolo scorretto almeno dal punto di vista politico che lo ha portato ad allontanarsi dal partito ed essere, secondo me, lui definito una farsa della politica. Polemiche anche da parte dell'Udc? L'Udc comunale di Salerno incredibilmente si preoccupa sempre della provincia e non si preoccupa dei disastri del sindaco di Salerno. L'Udc del Comune di Salerno è stato eletto con pochi voti, per la verità, circa il 3% a dedicarsi all'opposizione, e invece si è preso delle poltrone la Commissione Trasparenza per Gagliano e il Vice Presidente del Consiglio. Parla in maniera telecomandata quando parla il sindaco, quindi non credo che possa avere una grande rilevanza politica. Certo, sarebbe interessante vedere cosa ne pensa il Segretario Provinciale, il Consiglio regionale Cobellis, su questa vicenda. Vicenda CSTP, partono oggi i licenziamenti dei dipendenti, intanto il sindaco di Salerno De Luca continua ad attaccare la provincia e anche il Presidente del Collegio dei Liquidatori, Mario Santocchio. Guardi, per fortuna i dipendenti del CSTP sono i primi a poter testimoniare quello che ha fatto Santocchio in questi due anni. Santocchio ha risanato l'ente, è riuscito a chiudere tutti i buchi della gestione assistenziale clientelare di De Luca, perché era De Luca che comandava tramite D'Acunto, lo sanno tutti, e tramite i sindaci del PD degli altri comuni soci del CSTP che non protestavano rispetto alle cose gravissime che accadevano. Le cose gravissime sono il fatto che il Comune di Salerno non pagava, il fatto che il Comune di Salerno ha fatto un arbitrato, una transazione a favore del Comune di Salerno contro gli interessi del CSTP. È gravissimo che siano state assunte centinaia di persone in più, il CSTP aveva almeno 200 persone in più quando si è insidato Santocchio. Santocchio forse è stato di un cuore tenero, avrebbe probabilmente dovuto mettere in cassa integrazione immediatamente gli esuberi come è entrato e probabilmente il CSTP non sarebbe oggi in queste condizioni. Ma poi l'altra vicenda che è sotto gli occhi di tutti, il Governo nazionale, il Governo Monti, ha tagliato di oltre il 40% i trasporti pubblici locali e quindi chiaramente una società che aveva 200 persone in più per colpa del sistema De Luca di governo degli enti sovracomunali si è trovata in crisi. Era uno di quei carrozzoni. Mi dispiace che di questo poi paghino i dipendenti, tutti, anche quelli che sono stati assunti in esubero, perché certo non è colpa loro, anzi, devo dire che in questi mesi i dipendenti hanno cercato di fare di tutto per far sì che l'azienda potesse funzionare. Io credo che l'azienda possa essere ancora salvata. Voglio ricordare che il Presidente Caldoro ci ha messo 5 milioni di euro in più. È la prima volta da quando esiste la Regione Campania che un Presidente della Regione riconosce alla nostra provincia un tanto in più per chilometro. Il PD aveva dato 3 euro a Napoli per chilometro e 2 euro a noi. Questa è la dimostrazione che invece noi cerchiamo di fare le cose fatte bene. Il PD ovviamente non può più reggere come servizio perché sta funzionando in perdita e siccome è in liquidazione questo non è possibile. Credo che in una fase transitoria qualche alta linea che esercita già i trasporti pubblici per conto della Regione dovrà gestire il servizio. Il CSTP deve essere messo in bonus perché può farlo e può ripartire ovviamente quando la sua massa debitoria sarà finita e quando l'azienda sarà nuovamente snella e in grado di riprendere il servizio. In qualità di parlamentare ha presentato un'interrogazione al Ministro Cancellieri sulla situazione di degrado in cui versano alcune zone della città di Salerno a seguito dell'omicidio di Sergio Rossi. Sì, diciamo, questa vicenda è la punta di un iceberg. Purtroppo la più tragica è una vergogna che nella nostra città a Salerno si venga ammazzati di botte alla stazione. Peraltro non sappiamo ancora neanche chi è stato. Io credo che non sia un problema attribuibile certamente alle forze dell'ordine ma è evidente che vada fatto un'attenta analisi su questo fenomeno. Chiederò a Giannone, perché mi sembra giusto che in questa fase non sia io a seguire questa vicenda, di una convocazione del Comitato dell'Ordine di Sicurezza Pubblico. Io come parlamentare ho fatto un'interrogazione perché il Governo deve sapere che Salerno non è più un'isola felice. Purtroppo, probabilmente, la disoccupazione si sono costruiti troppi palazzi, si sono chiuse troppe fabbriche, si sono fatti troppi centri commerciali, si sono fatti troppi cambi urbanistici nella zona industriale, allontanando aziende e attività produttive e mettendo magari altre attività che hanno ucciso l'economia di questa piccola cittadina. Oggi non c'è lavoro, tanti giovani vivono in degrado, vogliamo costruire mega piazze milionarie e poi i ragazzi delle zone orientali non hanno lavoro, o emigrano o purtroppo rischiano di fare i delinquenti. Credo che sia necessaria sicuramente una forte azione delle forze dell'Ordine, della Polizia Municipale, di presidio delle zone del centro, della stazione in maniera particolare. Piazza della Concordia la sera non si può più parcheggiare perché si viene aggrediti da una torma di questuanti e nessuno fa niente e questo certamente è un problema di polizia. Ma c'è un problema più grande di disagio sociale. Salerno è una città che sta morendo senza lavoro e credo che io come parlamentare, che rappresento anche questa città, non posso più tacere. Finora sono stato equilibrato per rispetto al ruolo istituzionale che svolgo come Presidente della provincia. Ma adesso che questo ruolo ormai è alle spalle credo che devo difendere diversamente facendo il parlamentare e chiedendo che il Governo nazionale affronti il caso Salerno che ormai sta diventando veramente intollerabile. Il sistema di rappresentanza popolare e di costi della politica nell'editoriale di Eugenio Ciancimino. Le spese per la politica hanno un senso se destinati a derogare servizi di rappresentanza dei bisogni dei cittadini e delle realtà amministrate e governate. L'illecito, documentato dalla cronaca, riguarda il loro uso distorto che ha rilevanza penale ed etica. Produce un doppio danno alle istituzioni alle quali vengono sottratte le risorse e dai partiti che finiscono per essere considerati fonti di malversazioni. In democrazia i partiti sono una componente essenziale del sistema di rappresentanza popolare. Il suo funzionamento ha un costo necessario ed è accettabile se va oltre la semplice ritualità di cui si pasce la casta per sopravvivere. Al di là dei moralismi, il vento che soffre non fa bene alla democrazia, per quanto è distorta è meglio della oligarchia, dei potenti e dei sapienti. L'antipolitica ne è l'anticamera. Al via la seconda seduta della conferenza permanente del piano territoriale di coordinamento provinciale è convocata dal presidente dell'organismo di piano Marcello Feola. Gli incontri per discutere dell'attuazione del PTCP si svolgono sull'intero territorio provinciale. Si tratta, sottolinea Feola, di una fase importante, utile a dare sostegno ed offrire supporto tecnico ai comuni nella redazione dei piani urbanistici comunali secondo le linee guida dettate dal PTCP. Razionalizzazione del patrimonio immobiliare provinciale e contenimento della spesa per locazioni passive. La giunta di Palazzo Sant'Agostino avvia la procedura per la stipula di contratti di locazione per la locazione di uffici provinciali. Con tale operazione, spiega l'assessore al patrimonio Matteo Bottone, ci sarà un risparmio annuale di circa 95.000 euro rispetto all'attuale spesa per contratti di locazione gravante sulla provincia. Nasce il sistema museale della provincia di Salerno. Il provvedimento deliberato dalla giunta provinciale mira a costruire un modello organizzativo che potenzia gli elementi relazionali tra le strutture museali del territorio attraverso forme di cooperazione e di integrazione finalizzate a garantire un maggiore coordinamento e un migliore funzionamento dei musei e dei servizi resi all'utenza. La provincia di Salerno in qualità di soggetto capofila potrà coinvolgere altri enti locali e soggetti giuridici pubblici e privati titolari di musei collezioni e raccolte attraverso forme convenzionali o associative per garantire la condivisione di procedure ed iniziative. Bruzia Crispina l'intrigo la vita l'amore il titolo del romanzo storico presentato a Palazzo Sant'Agostino scritto da Maria Rosaria Pagnani docente di lettere e cultrice di storia delle donne il libro ripercorre la vita dell'Augusta Crispina e di suo marito l'imperatore Commodo con una ricostruzione piacevole ed avvincente delle vicende della Roma imperiale e dei costumi del popolo romano alla presentazione del romanzo hanno partecipato tra gli altri l'autrice il consigliere provinciale Massimo Cariello il sindaco di Buccino Nicola Parise questa settimana le nostre telecamere sono state a Bellizzi il comune più giovane della provincia di Salerno Maria Grazia Petrizzo ha incontrato il primo cittadino Pino Salvioli Siamo a Bellizzi in compagnia del sindaco Pino Salvioli per parlare di un comune importante della provincia di Salerno dove le attività amministrative vanno avanti anche in un periodo di spending review che sta tagliando fondi agli enti locali sindaco la sua giunta procede con le attività programmate procediamo con le attività programmate come diceva lei nonostante le tantissime difficoltà in parte derivanti dalla contingenza negativa economica che non è un problema di Bellizzi ma è un problema dell'Italia dell'Europa e di parte del mondo ma anche perché ereditiamo situazioni che oggi nello spirito della continuità amministrativa siamo costretti comunque a dover gestire l'interfaccia con gli enti sovracomunali nella fattispecie la provincia diventa un'operazione necessaria e io dico che pur nella difficoltà proficua noi l'abbiamo sperimentato con la necessità di intervenire rispetto all'isola ecologica e attraverso un finanziamento provinciale siamo riusciti a metterla a norma quindi a ristrutturarla abbiamo presentato un ulteriore progetto che è stato finanziato e ci consentirà di fare l'evoluzione della differenziata con la raccolta con la card abbiamo modificato e inserito un concetto nuovo nella gestione della cosa pubblica noi avevamo una struttura sportiva nella fattispecie degli impianti sportivi una piscina inaugurata dieci anni fa l'abbiamo ereditata in condizioni pessime con una gestione fatta dalla società in aus del comune che nel frattempo è posta in liquidazione perché produceva perdite a iosa e gravava fortemente sui bilanci familiari la struttura era degradata e rischiava di essere chiusa dall'ASL se non dai vigili del fuoco io con un bando pubblico ho affidato la struttura a un privato che attraverso un piano di investimenti approvato dalla giunta ha ristrutturato completamente quella struttura l'ha fatta diventare una delle più belle strutture sicuramente forse la migliore in provincia di Salerno e una delle più belle in campagna sindaco Bellizzi è anche una realtà importante nel campo delle produzioni e delle tradizioni che hanno fatto la storia di questo paese che poi si è popolato durante gli anni ma lei da imprenditore nonché da sindaco come fa a venire incontro a tanti operatori sul territorio che chiedono un sostegno dagli enti ma più che un sostegno dagli enti io credo che gli operatori del settore quindi la filiera produttiva chiede la capacità della politica quindi dell'amministrazione di legiferare quindi pianificare la crescita e lo sviluppo del territorio fornendo gli strumenti compatibili all'esigenza di investimento noi lo abbiamo fatto perché quando io sono diventato sindaco avevamo un PIP approvato da quasi tre anni e mezzo incapace di decollare perché mancavano le risorse finanziarie per operare gli espropri siccome parliamo di area vasta servivano circa 20 milioni di euro per rendere fruibile diciamo i lotti funzionali era impraticabile noi abbiamo fatto una variante normativa e abbiamo diciamo sbloccato la possibilità di quei territori di essere oggetto di investimento da parte delle imprese purtroppo devo dire che in questo momento storico con le banche che si sono irrigidite con l'indotto finanziario che di fatto non eroga finanziamenti stiamo attraversando un momento di difficoltà però lo strumento esiste abbiamo creato il presupposto io resto ottimista abbiamo l'esigenza di delocalizzare attività produttive che storicamente erano presenti sul territorio e noi a Bellizzi nella fattispecie ne abbiamo una storica importantissima che occupa centinaia di persone va concepita in un momento diciamo favorevole anche dell'economia oggi chiedere a un'azienda di delocalizzare per forza uno non è possibile perché è un'azienda in piena produzione oggi immaginare di creare il problema dell'occupazione sarebbe veramente un suicidio non solo politico ma anche sociale quindi compatibilmente lo strumento esiste le aree ci sono aspettiamo il momento favorevole l'azienda ha dato grande disponibilità nel voler risolvere quello che potrebbe diventare un problema Sindaco un'infrastruttura importante è l'aeroporto e la presenza del comune con qualche difficoltà da parte di altri enti che non vogliono cacciare le quote dovute beh questa è una storia diciamo che io sto seguendo da tre anni da quando sono sindaco e devo dire che per quella che è la mia capacità di comprendere non riesco a comprendere perché ho sentito a mio avviso correttamente il sindaco della città capoluogo lamentarsi del mancato supporto dei consiglieri regionali della provincia di Salerno presenti nella giunta Caldoro rispetto alla necessità di finanziare l'ultimo lotto della metropolitana leggera che a mio avviso pur obsoleta pur in ritardo tutto quello che volete deve essere completata dal momento che ci abbiamo investito e diventa comunque uno strumento aggiuntivo ma a ragion veduta l'aeroporto lo è importante per il territorio per l'area vasta diventa incomprensibile capire come oggi invece il comune capofila ma così come il comune capofila altri comuni importanti della provincia si siano completamente disinteressati quando poi nel passato avendo un ruolo politicamente diciamo legiferante avessero invece creduto in quella infrastruttura l'aeroporto è un importante strumento come lo è il porto diciamo peraltro privato che è stato costruito praticamente di fronte all'aeroporto perché sono quelle infrastrutture che gettano le basi per poi poter costruire la filiera del turismo io vorrei ricordare che noi non siamo una realtà industriale siamo una realtà a vocazione turistica e agricola i due elementi più importanti le risorse naturali che ci vengono dal Padre Tenno perché ci ha dato il bel mare la costa e una condizione climatica straordinaria che rende la Piana del Sede una delle zone più produttive dell'Italia le abbiamo valorizzate poco abbiamo immaginato di diventare la Lombardia o qualcos'altro io credo che dobbiamo rivedere questa impostazione rivedendo questa riusciremo anche ad affrontare problemi seri quali quelli dell'occupazione la salute dei giovani e il loro benessere psicofisico al centro di un progetto promosso dal servizio adolescenti dell'asile di Salerno Giacinta Staffieri riflettori puntati sulla formazione e sull'aggiornamento degli operatori sanitari che a vario titolo incontrano gli adolescenti l'adolescenza tra scuola e servizi territoriali e il tema del convegno svoltosi a Palazzo Sant'Agostino l'evento è patrocinato l'asile di Salerno l'asile di Salerno di appoggio ma soprattutto io ho parlato di famiglia adolescente di comunità adolescente quindi capire che quando c'è un adolescente ci sono tutte una serie di sono tutte strategie e modalità di intervento che devono essere attivate e su cui andremo a lavorare per quanto riguarda questo corso di formazione che abbiamo in essere al 27 il 28 novembre la chiesa di San Giorgio esempio del barocco salernitano nella rubrica Intramenia curata da Luisa Tornitore come racconta Giovanni Verga nella capiniera anche le giovani nobile della Salerno del Settecento guardavano il mondo quello che gli era concesso dalle grate del matroneo di San Giorgio Già nel IX secolo sarebbe stato possibile sentire le voci delle giovani fanciulle salernitane di Alto Censo destinate dalle loro famiglie a monacarsi ma è alla fine del XVI secolo che in San Giorgio vennero trasferite tutte le monache e degli altri conventi benedettivi della città diventando così uno dei più importanti di Salerno nel 1711 il monastero venne ampliato con un nuovo progetto elaborato dal celebre architetto napoletano Ferdinando Ferdinando San Felice allo stesso modo l'interno della chiesa venne riccamente ricoperto di dipinti murali su tela e di un pavimento di maioliche realizzato dalle officine vietresi connotandosi come l'esempio più bello e più ricco del barocco salernitano a qualche anno prima risale il ciclo della passione firmata da Angelo Solimena al figlio di Angelo e più celebre Francesco Solimena si devono poi tre pannelli dedicati alla Santa Tecla Archela e Susanna opera di Andrea Sabatini invece La Vergine con Bambino e i Santi celebre esempio della pittura rinascimentale salernitana Questo era il nostro ultimo servizio grazie per averci seguito appuntamento come sempre a venerdì prossimo Grazie a tutti